Campionati italiani Fight One a Rimini, un grande successo, oltre 1700 atleti in gara, su 16 tatami, 3 ring, una gabbia, abbiamo veramente visto delle grandi speranze dei giovani campioni e soprattutto Road to Bellator MMA, il torneo che laurerà i migliori italiani per combattere il 9 dicembre a Firenze al Mandela Forum per Octagon Bellator. Un esempio di come si può crescere lentamente ma progressivamente e soprattutto di come da Rimini arriveranno i nuovi campioni, quelli che un giorno riempiranno di pubblico plaudente i ring di tutta Italia e perché no di tutto il mondo.